Dunque bentornati in studio, di nuovo un benvenuto al professore Andrea Morrone, costituzionalista. Oggi la prima riunione della Commissione dei Saggi sulle riforme, un'opportunità da non sciupare per il primo ministro Enrico Letta e un percorso che dovrà ottenere degli obiettivi in un tempo contingentato, si tratta di 18 mesi. Allora la prima cosa che le voglio chiedere è come le riforme costituzionali che attengono direttamente alla politica sono in realtà così determinanti anche per la ripresa economica, ad esempio la riforma della legge elettorale. C'è una stretta connessione tra la crisi economica e le risposte che possono essere date a questa crisi economica e il percorso delle riforme istituzionali. Non dobbiamo commettere l'errore, che abbiamo fatto anche in passato, di separare i due piani, cioè le scelte di politica quotidiana e il contorno, la cornice, la casa nella quale queste scelte devono essere compiute. Se noi abbiamo un buon sistema di governo, un buon sistema di livelli di governo, Stato, Regioni e Comuni, enti e istituzioni che a Roma e a livello locale funzionano bene, siamo in grado anche di assumere decisioni serie per rispondere ai problemi della crisi economica. Tra l'altro si era già tentato di abbattere, combattere quello che è stato nobilitato col nome di Porcello, ma insomma è il sistema vigente con una proposta che abbiamo raccontato, è partita anche con una raccolta firme. Che cosa non ha funzionato? Perché non si è riusciti, raccogliendo la volontà popolare, a dare un'alternativa? Allora, il discorso è molto complesso, riducendolo proprio ai minimi termini possiamo dire questo, che la legge elettorale andava fatta prima delle elezioni. Discuterne oggi all'avvio di una nuova legislatura, prima ancora che si sappia qual è la nuova cornice istituzionale, quale sarà il nuovo modello di governo, come eleggeremo il capo dello Stato per andare proprio alla polpa delle cose, è evidente che rappresenta un'anticipazione che non ha molto senso. Quindi bene si è fatto in Parlamento, nel senso di dire rinviamo la decisione sulla riforma elettorale dopo che avremo stabilito quale sarà il nuovo volto del governo. Cioè vogliamo ancora mantenere un governo di tipo parlamentare in cui il governo e il capo del governo sono espressioni di una maggioranza parlamentare, cioè non eletti direttamente, o vogliamo imitare ad esempio il modello francese, dove addirittura eleggiamo direttamente il capo dello Stato che è capo dello Stato e capo del governo. Soltanto dopo aver fatto questa scelta, scelta tra questa alternativa, potremo costruire una legge elettorale coerente. Ad esempio, se dovessero i saggi scegliere il modello semipresidenziale francese, sarà molto opportuna una legge elettorale a doppio turno di collegio, perché lì funziona bene. Consente ai partiti di correre da soli al primo turno e di coalizzarsi intorno ad una piattaforma programmatica che è quella che poi esprime il candidato alla carica più alta dello Stato. Quindi è saggio, per usare una parola abusata in questo momento, legare la scelta sulla legge elettorale alla scelta istituzionale. Banalizzando quello che ha impedito di portare a termine sinora le legislature, sembra che il tema sia la litigiosità, i tradimenti, i personalismi, tanto per leggerla in maniera molto semplificata. Questi sistemi sono adatti alla caratteristica caratteriale degli italiani? Guardi, noi abbiamo tentato negli ultimi vent'anni, io ne ho fatto parte per un pezzo di questa storia, di trasformare i limiti del sistema politico italiano, che sono limiti atavici, vanno avanti da 60 anni a questa parte, che sono la frammentazione partitica e la divisione ideologica tra gruppi e grandi schieramenti. Avevamo tentato di superarla attraverso la legge elettorale, cioè pensando che importando in Italia il sistema elettorale inglese si potesse riassemblare il sistema politico, rendendolo più strutturato e più organico, sostanzialmente con due grandi forze. È una forza di destra, magari conservatrice, è una forza di sinistra, riformista, come è nelle grandi democrazie europee. Non ci siamo riusciti, diciamo così, dobbiamo scontare questo, per svariate ragioni. La prima di tutte è la resistenza delle forze politiche presenti nella vita politica di questo Paese, che hanno resistito di fronte alla trasformazione. Molti protagonisti siedono ancora oggi nelle stanze dei bottoni. E adesso il tema della riforma istituzionale diventa essenziale. Cioè l'ultimo tentativo, credo che veramente sia l'ultimo, sotto la garanzia della presenza di Giorgio Napolitano al Quirinale, è quello di tentare di cambiare le regole costituzionali sulla forma di governo, perché si possa, stabilendo esattamente chi deve decidere le questioni economiche, eccetera, eccetera, una volta stabilita la scelta della forma di governo, si pensa che si possa, diciamo così, ri-assemblare il sistema politico, superando la frammentazione e la divisione ideologica. Lo chiedo anche a lei, ma mettere mano a un lavoro fatto dai padri costituenti, motivati, insomma, da grandi obiettivi, grandi sogni, grandi visioni, eccetera, non rischia di scardinare delle certezze? Cioè si vanno a toccare magari degli aspetti che sarebbe meglio non andare a toccare? Allora, il nostro paese è un paese conservatore. I costituzionalisti sono conservatori. Non tutti, ma la stragrande maggioranza sono dei conservatori. Cioè sono legati, lo diceva anche Heinis prima, a un'idea sacrale o sacralizzata della Costituzione. Ma in realtà i nostri padri costituenti vollero fare due cose. Darci una Costituzione improntata ai principi di libertà ed eguaglianza, dopo il ventennio fascista, e per esigenze contingenti degli anni 40 creare un governo debole di garanzia, perché c'era una profonda divisione del mondo tra comunisti e non comunisti che doveva impedire a questo paese di fare delle scelte nette. Perché il PC più importante dell'Europa aveva il 35-38% dei consensi insieme al Partito Socialista, non poteva governare. E questo è il punto fondamentale. Allora si fece un modello di governo parlamentare debole dove è centrale il Parlamento e dove tutti i partiti, sia quelli che governano, sia quelli che stanno all'opposizione, cioè anche il Partito Comunista, dovevano contribuire dal Parlamento a fare le più grandi scelte. Quindi ragioni storiche che valgono anche oggi per... No, attenzione, regioni storiche che sono venute meno quando è caduto il muro di Berlino, cioè quando è caduta la cortina di ferro che divideva il mondo in due blocchi, non l'Italia, il mondo intero in due blocchi. E allora dal 1989 dovevamo capire che quel modello di governo, i padri costituenti, lo avevano stabilito a tempo. Quindi fermo... Oggi altre ragioni storiche giustificano un cambiamento della forma di governo. In queste ragioni storiche, a conclusione, le chiedo la debolezza manifestata dai partiti, la debolezza nella relazione con gli elettori, dimostrata ad esempio dalla partecipazione, dall'affluenza, le une delle ultime amministrative, permettono le forme strutturali così significative? Ma io in questo momento mi sento di poter dire che il contesto politico non ci rassicura affatto, perché appunto non abbiamo superato nessuno dei problemi politici che questo Paese ha da tempo. L'unica speranza vera è che ci sia una forte direzione da parte di Giorgio Napolitano. Il Presidente eletta è capo di un governo del Presidente della Repubblica, è un governo di servizio, di grande coalizione certamente, e quindi l'egida del Quirinale io credo che sia l'unica speranza alla quale noi dobbiamo tutti aggrapparci, perché, l'ho detto nel discorso di insediamento per essere stato rieletto, perché si possa fare veramente qualcosa, cioè il sistema politico in sé non è in grado di fare riforme, per divisioni forti su questioni molto spicciole, l'Imu, l'immunità di Berlusconi, cioè questioni di altro tipo che non attengono alle questioni istituzionali. L'unico modo per fare le riforme è affidarsi alla guida del Quirinale e allora io spero che si superino i particolarismi da parte di tutti, ci si affidi alla responsabilità di guida di Giorgio Napolitano e si facciano quelle poche riforme che sono però indispensabili per il nostro Paese, perché poi le politiche, le scelte politiche possono andare nel senso di risolvere i problemi del lavoro, di risolvere i problemi della scuola, dell'università, dell'economia e così via. Grazie professore Andrea Morrone per essere stato con noi e per averci seguito.